Quella della tua canzone preferita di Natale? Quella di Celine Dion! Non ho mica capito qual è! L'ultima terra abitata, prima del Polo Nord, sono le isole Svalbard, che è un po' come l'isola che non c'è, perché sul mappamondo sono sempre coperte dal perno. Le Svalbard sono famose perché sono la terra di Babbo Natale. C'è un'immensa cassetta postale rossa in mezzo ai ghiacci, che raccoglie tutte le lettere di tutti i bambini del mondo, anche l'ambiente. In questo Natale facciamo una bella torta ispirata ai ghiacci del Polo Nord. Come la facciamo? Facciamo una torta al cioccolato che profuma l'arancia coperta di una neve di Merinda Svizzera. Ciao! 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione